Allora, dopo gara sfortunato per il N1, una bella gara, a primo tempo forse leggermente sotto tono, poi nel secondo tempo comunque avete spinto di più, ma c'era questa capolista che comunque sulle ripartenze faceva veramente male. Allora, la classifica lo dice, hanno perso la prima e venivano da 11-12 vittorie consecutivi, quindi di tutte queste vittorie il primato non si fa senza motivo. All'andata vinciamo 3-0, abbiamo perso 4-3, oggi abbiamo perso 4-3, penso che mancavano 2-3 minuti alla fine immediatamente. A primo tempo noi sotto tono, ma molto sotto tono l'arbitro, perché non c'è un rigore per noi netto, col fischietto in bocca non dato. Fallo di mano al portiere loro su una ripartenza, la grande squadra, cinici, due occasioni, 2-0. Noi forse siamo andati troppo dietro agli episodi, ma l'arbitraggio così sarà la settima, l'ottava volta quest'anno. Si facessero un esame di coscienza quando vengono il sabato qua, perché noi tutta la settimana, io soffrono già con la febbre a 38, dopo tutta la settimana che sono stato male, loro si sono mettendo un po' la mano sulla coscienza. Nulla toglie all'apriglia, adesso è una grande squadra, come detto, però noi abbiamo fatto una grandissima partita. Noi dall'anno nuovo siamo ripartiti, come sappiamo. Ecco, guardiamo proprio questo fatto, non arrivano i punti, forse venerdì scorso nell'anticipo la bella vittoria con la Virtus Latina Scalo vi aveva comunque ridato un po' di fiducia. Lo avete dimostrato questo pomeriggio qui in casa, comunque c'è un nuovo percorso per questo l'allenatore. Sì, sicuramente, noi abbiamo i nostri valori, quest'anno è un'annata un po' sfortunata, abbiamo tanta assenza. Anche oggi eravamo senza il secondo portiere, il primo si fa l'espelle dopo un quarto d'ora e il ragazzo ha detto, la prima partita della sua vita, ha giocato una bellissima partita, gli faccio i complimenti. Abbiamo tanta assenza, abbiamo stretti i denti, abbiamo giocato gente che non era in perfette condizioni, abbiamo dato filo da torcere alla prima della classe. Secondo me un pareggio ci poteva stare, alla fine questo gioco è così, possono vincere tutti. Loro bravi a fare il 4-3, noi meno bravi e sfortunati a non fare gol nelle ultime occasioni, però ci sta. Ecco, ma il pareggio vi avrebbe comunque accontentato? No, perché io gioco sempre per vincere, l'Aprilia è una grande squadra, però la classifica non è impellente per noi come per loro, quindi a noi i tre punti servivano sia dal punto di vista dell'orgoglio, perché vince con la prima della classe fa sempre bene, sia anche per staccare un po' le zone basse dove secondo me siamo in merito alla mente. Bene, allora grazie intanto a Capitan Tinari, il saluto con l'altro capitano della formazione capolissa di questo rigirone, mantiene i tre punti di vantaggio rispetto alla diretta concorrente, c'è stata un po' di fatica per trovare questa vittoria, almeno per quanto riguarda il secondo tempo, primo tempo molto più spavalda, però voi sulle ripartenze siete una squadra che comunque fa veramente venire dei seri crattacapi. Sì, ci siamo mossi bene al primo tempo, al secondo tempo loro sono venuti fuori e hanno fatto vedere comunque quello che diceva Emanuele, il capitano del Nettuno, che praticamente la classifica è un po' bugiarda nei loro confronti, in quanto sono secondo me una bella squadra, nonostante avevano qualche defezione, colgo l'occasione per dire anche noi che avevamo questo problema, io questa settimana non mi sono allenato, anche lo stesso Bomber di Giorgio con la Bronchite, Pignati all'Urisci che mancavano, quindi avevamo Cianfanelli anche infortunato, comunque abbiamo stretti i denti da prima classifica, quale siamo, per mantenere la posizione. Serve anche questo, lo abbiamo visto nel riscaldamento pregara, eri dato come praticamente non partente, neanche in panchina, poi qualcosa, il tecnico forse vi siete detti dentro lo spogliatoio, questo ha segno di una dimostrazione di una squadra che quando fa un percorso lo fa non a caso. Ma se andiamo un po' all'analisi di questa partita, adesso sappiamo, abbiamo visto anche durante la partita il forte fair play, che c'era da parte tua e da parte dei loro, da parte dei giocatori dell'N1, loro lamentano questi episodi nel primo tempo di un calcio di rigore non assegnato di un fallo di mano del portiere, praticamente un tuo compagno di squadra, una squadra che comunque avete dimostrato veramente un buon calcio a cinque. Ma guarda, questo sport, tu me lo insegni, noi lo preghiamo da anni, è fatto da episodi, quindi il rigore ci sta, non ci sta, peccato che non c'è il fuorigioco, se no qua stavamo dalla mattina alla sera a fare false situazioni. Purtroppo gli arbitri sono di Serie D, ricordo ai giocatori, ai miei compagni e soprattutto agli avversari che stiamo anche noi facendo una Serie D, quindi gli errori li facciamo noi e dobbiamo aiutare gli arbitri, che non sono di categoria superiore, a sbagliare meno. Quindi anche noi qualche volta simuliamo, noi intendiamo noi calciatori, non solo noi United, quindi niente, questo può succedere, però a volte succede a me, a volte succede a te, quindi io dico sempre di guardare avanti, l'arbitro non fischia, come diceva il vecchio Ucciatin, grande maestro, gol è quando arbitro fischia, gol è quando palla entra, insomma queste dicerie. Però ripeto, ancora faccio i miei complimenti all'N1, al mister, a tutta quanta la famiglia, comunque ci ha accolto, sono dei brevissimi ragazzi e questo campo qui ci hanno lasciato, purtroppo non ci hanno lasciato punti in parecchi, ma hanno sofferto tutti per prendere dei punti. Quindi che seconda parte del campionato potremmo vedere, non solo da parte dello United di Aprile, ma un po' in generale un piccolo bilancio largo, schietto e molto veloce, anche perché capisco che le condizioni meteorologiche non ce lo consentono e soprattutto perché sei sudato tra l'altro. Ma ti vogliamo bene, quindi rimaniamo qui anche con questo tempo. No, niente, secondo me la situazione di classifica che c'è in questo momento ce la porteremo di gran lunga sino alla fine, salvo passi falsi di qualcuno, noi, Fortitudo Pomezia o la terza, che comunque ci stiamo un po' staccando le prime due dal resto della compagine. Vedo bene anche se ha perso la Virtus Ladina Scalo dell'amico mister Marracino, il suo gioco è sempre importante, io lo stimo molto come allenatore e come ragazzo, quindi secondo me qualche sorpresa ci sarà anche nell'ambito della situazione dei play-off. Però auguro a tutti, ecco adesso c'è la sosta, di ripendersi piano piano, di correre un po' di più e di divertirsi sempre perché il campionato è ancora lungo.